Buona giornata. Forse questo pensiero è rivolto a tutti quei genitori, a tutti quegli educatori che ci mettiamo anche tutti ansiosi. Molto spesso l'ansia ci frega, molto spesso l'ansia ci ruba quella modalità di educare e di confortare, di dare significato alla persona che abbiamo accanto. Molto spesso il fatto di scaricare un po' le nostre ansie su chi abbiamo accanto non aiuta sicuramente a crescere. Anzi, ci saranno sempre più persone, diciamo così, che hanno difficoltà poi a decidere, che hanno difficoltà poi a sapere qual è la cosa giusta. Perché? Perché ci sarà sempre qualcuno che gli dice guarda no, non è così, oppure dovevi fare cos'ha, oppure... Filo lungo, filo lungo. Permettiamo che anche chi è accanto a noi possa sbagliare. Anzi, forse in questi sbagli che uno si sveglia, cresce, dà senso alla propria vita. Certamente ci sono sbagli e sbagli, sicuramente. Però l'allenamento parte già dalle piccole cose a cominciare dai doveri che ognuno può esprimere e fare che è accanto a noi e che lo fa sicuramente in una maniera diversa da come sono abituato a fare. Che il Signore ti illumine e ti benedica. Buona giornata. Grazie a tutti.